Dio porco è già pieno di tedeschi in vacanza che porco dio vanno a 60 vanno porca madonna e sono in ritardo al lavoro Dio cane, porco dio sto cazzo di ritardato tedesco davanti si ferma alle rotonde anche se non c'è nessuno ma ti rendi conto? Che cazzo buongiorno?